L'omani è il mio partito, è un'amore di partita, è un'amore di partita, è un'amore di partita. Mi dico che va bene a vita, ho fatto 20 volte, ma ho fatto anche in ultimonde, però nel frutta già c'è un frutto 3 passa, perché ho fatto il doppio di un'amore.